Il Movimento 5 Stelle cambia pelle dopo il risultato di ieri degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Via Libera al terzo mandato per i sindaci è un'alleanza e all'alleanza con i partiti tradizionali. A Roma un movimento pronto a raggi bis mentre si profilano possibili alleanze alle regionali con il Partito Democratico. Zingaretti apprezza ma esclude un accordo sulla capitale. Non sosterremo mai la ricandidatura della Raggi. Aumentano ancora i contagi in Italia a fronte anche di una diminuzione dei tamponi effettuati. 574 i casi nelle ultime 24 ore, 3 le vittime. Ed è stretta sulle discoteche. Veneto ed Emilia Romagna varano ordinanze gemelle. Da oggi nei locali non potrà entrare più della metà della capienza massima e saranno obbligatorie le mascherine anche durante il ballo. In caso di violazione è prevista l'immediata chiusura del locale. Ma il virus corre sempre più veloce in Europa. La Gran Bretagna ha deciso da oggi la quarantena. Per chi arriva dalla Francia faremo lo stesso la fredda replica di Parigi. Situazione difficile in Spagna dove ormai si viaggia con circa 3000 contagi al giorno. Il governo ha deciso la chiusura delle discoteche e nuovi orari per i bar. Clamoroso risultato ieri sera ai quarti di finale di Champions League. Il Bayern di Monaco ha travolto il Barcellona di Messi per 8 a 2. Un risultato storico per i catalani è infatti il peggior risultato di sempre. Tedeschi ora in semifinale che incontreranno la vincente della sfida di questa sera tra Manchester City e Lione. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette e buon ferragosto. Dunque lo avete sentito dai titoli e svolta nel Movimento 5 Stelle un passaggio importante che cambia moltissimo della tradizione del Movimento. Un Movimento che adesso dovrà lavorare, come ha detto oggi Luigi Di Maio, in intervista alla stampa sulla questione della nuova classe dirigente. Un elemento importante ma anche un movimento che si prepara dunque a nuove alleanze possibili a questo punto con il Partito Democratico sia alle regionali di settembre sia in vista anche delle amministrative del prossimo anno che si terranno in diverse città anche se Zingaretti che apprezza naturalmente questa svolta ha già chiarito come andranno le cose a Roma. Vediamo. La svolta era nell'area. Il Movimento 5 Stelle apre alle alleanze sul territorio e dice sì al terzo mandato per sindaci ed amministratori locali. Cambiano le regole ma non i valori, si affrettano a precisare i vertici pentastellati e non vuol dire, spiega il capo politico Vito Crimi, che ci alleiamo automaticamente con chiunque. 49.000 agli iscritti che hanno dato il via libera sulla piattaforma russua e due quesiti, sì con l'80% alle ricandidature ok con il 60, alle alleanze con i partiti tradizionali. È il sigillo che mancava alla corsa annunciata da Virginia Raggi per la riconferma alla guida del Campidoglio. Avanti a testa alta, esulta la sindaca su Facebook. Passa insomma la linea dei big del Movimento. Dal ministro Luigi Di Maio inizia una nuova era, dice, al presidente della Camera Roberto Fico. Giusto afferma che i sindaci si ricandidino. In sostanza un ok Virginia Raggi a Roma, ma anche un buon viatico per stringere alleanze con il PD a livello locale e soprattutto nelle grandi città dove in prospettiva si andrà al voto, come Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Ma per molti è il prologo di quanto potrebbe avvenire anche a livello nazionale per ministri e parlamentari. Contrario al terzo mandato, Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Russo, la macchina che gestisce la democrazia interna ai 5 Stelle. Il voto favorevole alla svolta di fatto lo indebolisce. Bene sulle alleanze il commento positivo del segretario del PD Zingaretti, che però sulla ricandidatura di Virginia Raggi e Perentorio non la sosterremo mai, ma il primo banco di prova saranno le regionali di settembre. Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in audizione in Commissione Lavoro alla Camera ha approvato a difendersi sul caso bonus incassati da parlamentari e consiglieri regionali. Le notizie, ha detto, non sono uscite da me e l'Inps è vittima e non carnefice. La priorità era pagare e non controllare, ha spiegato Tridico, che non ha voluto fare i nomi degli altri politici che hanno chiesto i 600 euro. Chiarimenti che hanno soddisfatto i 5 Stelle, che difendono a spada tratta il presidente dell'Inps, ma non bastano alle opposizioni per le quali Tridico non ha dato nessuna risposta e quindi deve dimettersi. A proposito di emergenza da coronavirus, durante la quale era stato varato il provvedimento dei 600 euro, l'andamento dell'epidemia in Italia continua a preoccupare perché i casi continuano a salire. Questo sembra il trend ormai stabilizzato degli ultimi giorni. Sono soprattutto giovani, lo sappiamo, e alcuni di questi sarebbero anche, a quanto ci raccontano gli esperti, in gravi condizioni. Sotto accusa ci sono le discoteche e i locali da ballo, rispetto alle quali il governo non ha voluto prendere un provvedimento univoco. Ci si penserà, ha detto il ministro Boccia, dopo Ferragosto. Nel frattempo le regioni che hanno attuato una stretta sono Emilia, Romagna e Veneto. Sarà una scelta inevitabile, soprattutto se i numeri non cambiano, a dirlo riferendosi ad una prossima stretta sulle discoteche e il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia. Per il ministro, infatti, le discoteche non andavano proprio riaperte e ora, più che mai, dopo il vertice governo-regioni, si pone la necessità di non abbassare la guardia e seguire una linea univoca. Il compromesso ad oggi raggiunto sulla cosiddetta movida è quello di ingressi contingentati e mascherine obbligatorie, in assenza di distanziamento, ma se i contagi dovessero continuare a salire, 574 nuovi casi, secondo l'ultimo bollettino della protezione civile, non si esclude un nuovo provvedimento dopo Ferragosto. Si cerca dunque la quadra per disposizioni rigorose e condivise, soprattutto per luoghi di aggregazioni, quali locali e discoteche, ritenuti ad alto rischio assembramento. In Liguria, ad esempio, nessuna ordinanza sulle discoteche, ma resta l'invito a mantenere la massima prudenza. In Veneto, invece, l'ordinanza del governatore Luca Zaia prevede che il numero massimo di persone che possono entrare non sia superiore al 50% della capianza totale normalmente autorizzata. Stessa linea anche per l'Emilia Romagna, il cui presidente Stefano Bonaccini risponde alle critiche della sindaca di Riccione, Renata Tosi, che chiedeva evidenze scientifiche per la decisione di dimezzare la capianza dei locali e obbligare sempre alle mascherine. Dalla Toscana, il governatore Enrico Rossi auspica anche lui una linea nazionale per evitare pericolose migrazioni di giovani da una regione all'altra alla ricerca di luoghi in cui ballare. La Basilicata intanto viate il ballo anche in spiaggia, mentre in Alto Adige l'accesso alle discoteche è consentito solo per il 30% della capienza. Un'attenzione è quella sui luoghi del divertimento che si è riaccesa anche in seguito ai numerosi casi di positività al Covid di comitive di ragazzi rientrati in Italia da mette come Grecia e Croazia. Resta condiviso da autorità ed esperti l'appello anche rivolto ai più giovani al rispetto delle regole di base, distanziamento, sistemi di protezione e igienizzazione frequente delle mani, soprattutto ora che l'età media dei nuovi casi si sta abbassando. E proprio alla luce dell'andamento dei contagi il Comitato Tecnico Scientifico tornerà a riunirsi la prossima settimana per fare il punto della situazione sulla riapertura delle scuole ma anche sulla ripresa delle attività lavorative e soprattutto sui trasporti che sono strettamente collegati a queste due situazioni. Come avete sentito nel servizio i nuovi casi sono collegati in molte situazioni a vacanzieri di ritorno dall'estero per questo il Ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza rispetto alla quale però ci si sta organizzando negli aeroporti e nei porti. Vediamo com'è la situazione al momento. Stavamo in Grecia e siamo tornati a fare il tampone perché in aeroporto a Malpensa non facevano i tamponi rapidi. Dalla coda al check-in alla ricerca del tampone per poter circolare senza rischi in Italia. La vacanza si concluderà così per almeno 10.000 italiani che in questo momento si trovano in Grecia, Croazia, Malta e Spagna. Paesi sulla lista del Ministero della Sanità da giovedì, i contagi risalgono e si vuole evitare di importare nuovi casi ma la macchina dei controlli stenta a partire. I test rapidi sono ancora in sperimentazione e negli aeroporti maggiori non arriveranno. Non si può fare a meno di piccolissimi scali con 100 passeggeri al giorno, spiegano dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera. Non certo i 6.000 previsti nel periodo di Ferragosto tra Malpensa e Linate. Chi a terra riceve un avviso che invita a contattare l'asle di competenza per prenotare un tampone entro 48 ore. Nessuno sa nulla e non ha proposto neanche di fare il tampone per dire in aeroporto, né ci ha misurato la febbre adesso. Per cui andiamo all'ospedale, al protocorso di Seriate a fare il tampone. Noi siamo dell'Emilia Romagna, ci siamo già iscritti al sito, quindi ci dovrebbero contattare per farlo. Diverse regioni in queste ore potenziano la diagnostica con punti mobili per fare i test. Nel frattempo l'indicazione è di restare a casa, mantenendo la distanza anche dai familiari. Diverso il discorso per le 16 nazioni indicate dal Ministero per la quarantena obbligatoria. Siamo partite questa mattina dalla Moldavia alle 5, con tre ore di pulma siamo arrivate in Romania. E dalla Romania ci siamo imbarcate, siamo arrivate qui a Bergamo. E niente, adesso faremo la quarantena nei nostri domicili. E problemi per i turisti ci sono anche all'estero, soprattutto con la decisione delle ultime ore della Gran Bretagna di imporre la quarantena a chi ritorna dalla Francia. Francia che ha deciso a questo punto di fare la stessa cosa, ma questo ha scatenato un vero e proprio fuggi-fuggi. Intanto in altri paesi continuano a salire i contagi. La Spagna viaggia ormai sui 3.000 al giorno. A migliaia di famiglie britanniche che avevano avuto la malaugurata idea di concedersi una vacanza in Francia, è toccato fare una corsa disperata per evitare la quarantena che è scattata da stamattina alle 4, ora di Londra. Eurostar presi d'assalto, così come aerei e traghetti, da parte di chi non voleva o non poteva rassegnarsi all'idea di trascorrere 14 giorni chiusi in casa, una volta rimesso piede in patria. Il governo britannico l'aveva deciso nella serata di giovedì e ha dato così poco più di 24 ore ai compatrioti per riattraversare la manica. Quel giorno la Francia aveva registrato 2.669 nuovi casi di Covid e a Londra è scattato l'allarme, così il paese è stato di nuovo inserito nella lista di quelli a rischio. Per l'industria turistica francese, che cercava di risollevarsi a un colpo duro, la Francia è la seconda destinazione dei vacanzieri inglesi dopo la Spagna e Parigi minaccia ritorsioni. Ma la situazione nel paese è seria, tanto che da oggi nella capitale ad esempio sono proibite le riunioni con più di 10 persone. La stessa misura è raccomandata adesso in tutta la Spagna, dove il governo ha deciso una dozzina di nuove misure dopo aver visto i casi quotidiani arrivare a quota 3.000. Chiuse discoteche e nightclub, ristoranti e bar aperti solo fino a lunedì notte, controlli frequenti nelle case di riposo. In vigore anche il divieto di fumo in strada, se non è possibile rispettare la distanza di due metri tra le persone. Berlino ha imposto test e quarantena fino al risultato a tutti i tedeschi che rientrino dalla Spagna, ma anche in Germania i casi sono in aumento. L'allerta riguarda soprattutto le scuole. In Nordrena o Westfalia, due giorni dalla riapertura, già 12 istituti sono risultati colpiti dal coronavirus. Due hanno già richiuso, negli altri sono state previste misure parziali. Da ieri è scattata la chiusura a mezzanotte dei locali in Croazia. Nel paese in questi giorni si trovano circa 900.000 turisti stranieri e il numero di casi era addoppiato nell'ultima settimana. Tanto che l'Austria ha chiesto ai propri connazionali di tornare in patria. Da lunedì sarà imposto l'obbligo di tampone a chi rientra appunto dalla Croazia. E poi ci sono gli effetti pesanti sull'economia. Da oggi entra in vigore il decreto legge agosto, la manovra da 25 miliardi per fronteggiare appunto proprio le difficoltà economiche del nostro paese. Ma ci vorrà naturalmente del tempo per vedere gli effetti. Nel frattempo però i dati ci raccontano di una situazione davvero pesante, naturalmente non soltanto per l'Italia ma anche per altri paesi europei. Solo che noi partiamo con lo svantaggio che eravamo già in difficoltà prima del coronavirus. Il debito pubblico, quello contratto dallo Stato nei confronti di privati, imprese, banche, stati esteri, per poter far fronte ai propri bisogni, era già alto in Italia rispetto al resto d'Europa e valeva circa 2.400 miliardi di euro. Poi è arrivato il Covid, le chiusure, la crisi economica, gli sforzi del governo per contenere i danni, sostenere l'occupazione, famiglie, imprese e assicurare la ripartenza. Tre mesi dopo è arrivato pesante il conto certificato da Banca Italia. Il debito ha toccato il record, salendo a fine giugno a 2.530 miliardi, 20 miliardi e mezzo in più rispetto a maggio, dati che accreditano la previsione dell'ufficio parlamentare di bilancio di un debito destinato a chiudere l'anno oltre il 160% del PIL. Sempre secondo la Banca d'Italia, il peggioramento del quadro economico, ma anche la sospensione di alcuni versamenti fiscali approvati dall'esecutivo per alleggerire la posizione dei contribuenti, hanno portato a un calo delle entrate tributarie nei primi sei mesi del 2020 del 10,3%, pari quasi a 20 miliardi in meno. Il rallentamento è confermato anche a livello europeo dall'Eurostat. Il prodotto interno lordo della zona euro è calato del 12,1% rispetto al trimestre precedente, giù anche gli occupati del 2,8%. La produzione industriale di giugno cresce del 9,1%, ma meno di quanto previsto. Tutti i numeri con i quali dovrà fare i conti il governo, subito dopo la pausa di Ferragosto. Si tratta di capire fino a che punto potrà spingere la politica di bilancio dopo tre manovre in extra deficit per un totale di 100 miliardi. In particolare, in vista della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e soprattutto prima di mettere a punto il piano di rilancio del Paese che dovrebbe portare all'Italia i 209 miliardi del recovery plan, 127 dei quali, è bene ricordarlo, seppur in 30 anni dovranno essere restituiti. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno trovato un accordo per imporre sanzioni mirate contro i responsabili delle violenze sui manifestanti e dei brogli elettorali in Bielorussia. Nelle prossime settimane ci sarà l'adozione formale. La linea dura è stata sollecitata dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen e dalla Germania. E mentre Minsk cerca il dialogo, Svetlana Tikhanovsky, a leader dell'opposizione, preme per l'istituzione di un consiglio per la transizione dei poteri. Emergono intanto storie raccapriccianti di torture sulle persone fermate negli scontri. Botte, privazioni del sonno, mancanza di acqua e di cibo, poi urla, minacce di ogni tipo, compreso per le ragazze, lo stupro punitivo. Sono questi i racconti delle persone rilasciate per scadenza dei termini. E torniamo in Italia dove ieri ci sono state le cerimonie. Per i due anni dal crollo del ponte Morandi era presente il Premier Conte che ha assicurato che il Governo rimarrà accanto alla città e alle famiglie delle vittime, parenti dai quali sono arrivate parole durissime, la richiesta forte di verità e di giustizia sostenuta anche dal capo dello Stato Mattarella. Tre fiaccolate ieri sera in memoria delle 43 vite spezzate. Il 14 agosto di due anni fa è il ricordo organizzato dal Comitato delle Vittime, e l'arrivo alla radura della memoria, l'oasi temporanea disegnata dall'architetto Boeri, un grande cerchio con 43 alberi, uno per ogni vittima del crollo. È stata la coda di una lunga giornata, con il momento più solenne, alle ore 11.36, orario e giorno che segneranno per sempre nella mente dei genovesi e degli italiani un momento di dolore e rabbia. Due anni fa, proprio a quell'ora, il ponte Morandi si sbriciolava su se stesso, provocando la morte di 43 innocenti. Oggi, a pochi metri di distanza dalla pila 9 crollata, è stato reso omaggio alle vittime, nomi e volti scorrono sullo schermo della radura. A Genova è tornato anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accompagnato dal guardasigilli Bonafede, dal Ministro dei Trasporti De Micheli. Nel discorso del Premier, le rassicurazioni sulla sicurezza delle infrastrutture in futuro, il Presidente della Repubblica, inviato nel capologo Ligure una corona di fiori, in un messaggio parla di richiesta di verità e giustizia. Nel pomeriggio scoperta una targa di marmo bianco nella sede del Comune, che ricorda le vite perse, il Sindaco e Commissario Bucci sottolinea «Le vittime sono parte della città, Genova non dimentica». La Presidente del Comitato delle Vittime, favorevolmente colpita dalla presenza del Capo del Governo, ha usato parole dure contro autostrade. «Il sistema marcio ha permesso il crollo, la giustizia è uno dei deterrenti a ripetersi di altre stragi», ha detto. Su tutti domina imponente il nuovo Ponte San Giorgio, disegnato da Renzo Piano, inaugurato il 3 agosto, aperto al traffico il giorno dopo. Non è solo un passaggio di consegne, ma piuttosto un messaggio di speranza. E proseguono in Sicilia le ricerche del piccolo Gioele, quattro anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla mamma, poi ritrovata morta sotto un traliccio nei pressi dell'autostrada Palermo-Messina. C'è una nuova ipotesi sulla quale lavorano gli investigatori. Il bambino potrebbe aver perso la vita nell'incidente stradale avvenuto il giorno della scomparsa. La madre ne avrebbe poi nascosto il corpo prima di suicidarsi. Sono in corso accertamenti sull'auto della donna, mentre siamo ormai al dodicesimo giorno di ricerche, che si avvalgono anche di squadre Speleo dei Vigili del Fuoco, di unità cinofile, di speciali telecamere usate per esplorare pozzi, grotte e tane di animali selvatici. E c'è anche l'appello disperato del padre, chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti. E adesso passiamo allo sport con il calcio. La Champions League ieri sera, umiliante e sconfitta del Barcellona travolto per 8 a 2 dal Bayern di Monaco, tedeschi in semifinale, che affronteranno la vincente tra Manchester City e Lione. Umiliante, non c'è altro aggettivo per definire la disfatta di una big come il Barcellona, che contro il Bayern Monaco ha conosciuto la serata più buia della sua storia. Con una prova di forza impressionante, i bavaresi hanno impartito una dura lezione ai catalani, buttati fuori dalla Champions, in una stagione per loro fallimentare, chiusa con il pesantissimo KO di Lisbona e senza titoli in bacheca dopo 12 anni. Partita spettacolare, aperta dal gol di Müller, che smaschera subito le difficoltà difensive dei Blaugrana. Stesse amnesie nella retroguardia tedesca. L'autorete di Alaba, spaventato dalla pressione di Suarez, sembra far coraggio al Barcellona, che prima di crollare colpisce anche il palo con Messi, assente ingiustificato di fronte a un Bayern assolutamente devastante nella seconda parte del primo tempo. Superiori per intensità e brillantezza, i tedeschi vanno a segno tre volte in dieci minuti. Nel tabellino entrano un po' tutti e con una facilità disarmante. L'ex interista Perisic, Nia Brie e ancora Müller giocano al tiro al bersaglio con Ter Stegen. Tradito dai suoi campioni, il Barcellona è allo sbando e per gli spagnoli il peggio deve ancora arrivare. Nella ripresa Suarez ha un sussulto d'orgoglio, 4 a 2, ma Kimmich fa capire che la formazione di Flick non ha alcuna intenzione di fermarsi. Arrivano così anche il 54esimo centro stagionale del bomber polacco Lewandowski e la doppietta dell'ex blaugrana Coutinho, che da subentrato fisse il punteggio sul clamoroso 8 a 2. Figuraccia senza precedenti per il Barcellona, ormai alla fine di un ciclo, mentre adesso il Bayern, che continua ad inseguire il triplete, affronterà in semifinale la vincente di Manchester City-Lione in programma stasera. Dopo aver eliminato il Real Madrid, Guardiola stavolta vuole andare fino in fondo e i francesi di Garzia, giustizieri a sorpresa della Juventus e di Sarri, non sembrano rappresentare un ostacolo impossibile sul cammino degli inglesi. Ed è tutto per questa edizione, il telegiornale torna alle 13.30, adesso le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona. Buona giornata e buon ferragosto.